Io seguivo fin dagli anni della giovinezza Montanelli, poi un giorno lui aveva dei problemi con Venezia, un processo, e avevo pronto il secondo libro su Venezia, bianco e nero, e avevo voglia di conoscerlo. Ero amico di un giornalista veneziano che lavorava il Corriere, aveva il contatto, andiamo a Cortina, e mi trovo davanti questo personaggio mitico, c'è stata subito amicizia, allora gli ho detto ma dimmi Indro dove sta il successo, il tuo successo così straordinario, io ti leggo da vent'anni e mi sembra che tutto sia facile, si diventa ingordi di quello che scrivi. E allora lui mi fa, quando scrivo faccio mie le istanze del lettore, hai capito? Lui va a letto e dice io vado a letto con il lettore, lui pensa al lettore, quindi devo essere chiaro. È un fatto deontologico, tu vuoi comunicare. E la fotografia è un mezzo, da quando esiste, è una cosa strepitosa, questa immediatezza eccetera. Per cui la responsabilità, tu non puoi proporre delle cose ambigue. In tempi come il nostro poi, la fretta di sapere, di conoscere, di vedere. Io ho sempre tenuto presente questo, che forse era già scritto nel mio DNA, ma sentirlo dire da un grande è stata quasi una rivelazione per me.